Beh, parliamoci chiaro, soltanto un ingenuo ed uso volutamente un eufemismo potrebbe credere che queste linee guida le misure concepite dai cosiddetti esperti, dai cosiddetti ministri, dai cosiddetti presidenti e dalla miriade di figure ormai mitologiche per quanto sono misteriose e nascoste dietro le quinte, siano preposte a tutelare la salute di chi che sia, meno che mai dei nostri bambini e dei nostri giovani. Sì, perché parliamo del nostro futuro, dei nostri figli, perché tu, Stato, adesso sei un nostro nemico, un nemico violento, senza onore, che sta giocando al massacro, in un clima sociale dove la coscienza collettiva è sospesa, o quantomeno disfunzionale, guastata. Perché questo non è un momento qualsiasi, questo è uno di quei momenti nei quali si scrive la storia. Ma non si tratta di gesta nobili di patrimoni per l'umanità. Sappi che sarai interpellato un domani per rendere conto di misfatti gravissimi che avrebbero minato fin nelle radici i presupposti stessi della vita e della natura dell'uomo. Tu credi di poterti nascondere dietro le membra ingombranti di un leviatano, e invece ci saranno dei nomi e dei cognomi che risuoneranno scanditi ad alta voce quando l'umanità dormiente si sveglierà di colpo e guarderà in faccia chi si è permesso di minacciare, violare, attentare alla nostra vita. Non abbiamo creduto neanche per un istante che tutto ciò riguardasse la difesa della salute, il contenimento di un contagio che tu, Stato, che voi, ministri, tecnici, commissari, portaborse, davvero fosse interessati ai nostri figli. Ciò che è stato concepito, infatti, se applicato, porterà solo malessere, malattia e morte. Anzi, ti informo, ha già cominciato da tempo a mietere vittime. È da tempo che si prova a distruggere la scuola, a minarne le fondamenta in tutti i modi legalizzati, attraverso le cosiddette riforme, che sono riuscite solo a svilirne la funzione centrale di istruzione e formazione e a renderne oltremodo complicate le ulteriori funzioni democratiche e inclusive. Eppure la scuola italiana si è difesa dagli attacchi vergognosi che ha subito, perché, come dico sempre, sono le persone a fare la differenza. Eppur se vessati da migliaia di adempimenti burocratici inutili e vessatori, circolari, che dalla sera alla mattina pretendono inutili monitoraggi, delegati a dirigenti scolastici e a docenti, oberati già da ulteriori compiti che nulla avrebbero a che vedere con l'insegnamento e la cura dei nostri figli. Pare che tu, Stato, in base al tuo comportamento di figli, non ne abbia, infatti. Eppure sono certa che molti di voi celati dietro la coltre di fumo di un apparato statale multiforme e sempre più lontano dal popolo, i figli li abbiano. Forse ciò che vi manca è la coscienza, ciò che vi manca sono i valori, ciò che vi manca è la dignità, ciò che vi manca è la cultura. Sì, perché la cultura vera, quella che rende le azioni dell'uomo nobili e cruciali, non avrebbe consentito a sviluppi tanto ignobili. Informo chi ha concepito simili abomini, perché è di questo che si tratta, che nessuna persona da 0 a 18 anni dall'inizio dell'epidemia è stata colpita dal virus in misura tale da richiedere cure intensive. E soltanto quattro individui sono deceduti perché gravemente ammalati di pregresse e patologie. Rivolgiamo un pensiero commosso a questi bambini. Adesso, dopo mesi di apertura e contatti ravvicinati tra ragazzi, è chiaro a tutti che la curva epidemiologica riferita ai giovani non è accresciuta, nonostante i bombardamenti da parte di organi di stampa vergognosi, che manipolati da soggetti senza scrupoli, che diffondono notizie false, tendenziose e manipolate. Ricordo anche a questi che hanno nomi e cognomi e credo così come sopra che abbiano anche dei figli e che se questo mondo sarà rovinato, di certo lo sarà anche per i loro figli, non solo per i nostri. Vorreste trasformare la nostra vita e la vita dei nostri studenti in un incubo? Vorreste entrare nelle nostre scuole e trasformarle in lager e lazzaretti senza malati? Eppur vorreste trovarne con metodi nazisti dove si vuol far credere che un sano sia malato e che sia un pericolo per familiari e compagni, spargendo sospetto, paura, spargendo la zizzania, separando e dividendo perché è solo così che può governare una compagine simile, che si è venduta al migliore e orribile offerente. Costringere i nostri studenti, i docenti e tutto il personale della scuola all'osservanza di simili misure restrittive, non solo è inutile, e tu Stato lo sai benissimo, ma è anche criminale. Bambini della scuola dell'infanzia, costretti a non poter vivere in modo spontaneo e salutare, impediti nello sviluppo armonico della personalità, condannati con un'altissima probabilità a contrarre nevrosi e psicosi, costretti a vivere tra persone orribilmente mascherate. Perché? Quali sono i tuoi piani? Possibile che questa frotta di pseudoesperti inseriti in questi tanto in voga comitati ignorino le implicazioni e le conseguenze di simili manipolazioni? Davvero ignorate che ciò potrà portare a malattia, autolesionismo e anche suicidi? Ebbene, sia che lo ignoriate, sia che invece ne foste consapevoli, in entrambi i casi dovete dimettervi e rinnegare immediatamente le prescrizioni che avreste voluto imporre alle nostre scuole. Dovete andarvene, liberare tutti dal gioco della vostra profonda inadeguatezza. Le nostre scuole devono rientrare nella normalità, restituita ai nostri figli la serenità, la gioia, la libertà. Non è con questa violenza che potrete godere delle vostre ignobili poltrone o dei vostri soldi. Le barche sulle quali ci troviamo noi e voi saranno di certo diverse. Non siamo sulla stessa barca, no davvero, ma il mare è lo stesso. Sappiatelo. Sono chiamata a parlare di responsabilità, è vero, ma ci sono tipi differenti di responsabilità. Fin troppo facile e meschino concepire linee guida illogiche, illecite, oltre che anticostituzionali fin nel midollo, per sbatterne poi le responsabilità in capo ad altri, in capo ai dirigenti scolastici. A tal proposito, cari colleghi dirigenti scolastici, vi consiglierei di fare attenzione, perché non è che il vostro silenzio vi salverà dal rendere conto poi in chissà quali altri sedi, oltre ad un'eventuale coscienza di illeciti gravissimi dei quali invece dovrebbero essere responsabili altri. È vero che in quanto datori di lavoro noi siamo responsabili della salute dei nostri studenti e dei nostri dipendenti. E io aggiungo, appunto, i dirigenti scolastici hanno tra i propri compiti specifici quello di rendere l'ambiente di lavoro e di studio salubre e idoneo a studenti e personale scolastico. Ed è ciò che tentiamo di realizzare in ogni modo, anche quando si tratta di scuole che cadono a pezzi e che vengono totalmente ignorate, proprio come se non esistessero dagli stessi funzionari che oggi sbandierano ai quattro venti la preoccupazione per il contagio nelle scuole. Che ipocrisia immensa! Vorrei sapere, per mia curiosità personale, dove fossero queste entità prima della cosiddetta pandemia. Ogni santo e sacro giorno nelle nostre scuole regna una grande e profonda solitudine, pur nell'allegria chiassosa dei nostri giovani. Allegria che si vorrebbe tacitare con bavagli, museruole e paura. Di cosa siamo responsabili noi presidi? Di cos'altro, visto che lo siamo di tutto di più da tempo in memore? Egregio Stato, ti stupirai perché io ti chiedo un'altra responsabilità, ulteriore, ed è quella del benessere psicofisico, emotivo, affettivo dei miei studenti e del mio personale. Concedimi l'uso dell'aggettivo possessivo, prassi che mi è stata contestata dagli uffici superiori dai quali sono stata convocata giorni addietro, all'indomani del mio sciopero della fame, per rendere conto delle mie dichiarazioni avverso ad una bozza non ministeriale, bensì a firma dell'Associazione Nazionale Presidi, che pare volesse prevedere il voto di condotta per quegli studenti che non rispettassero l'osservanza delle misure restrittive anti-Covid, vale a dire il distanziamento sociale. In quell'occasione mi fu ribattuto che le scuole alle quali siamo assegnati noi dirigenti non sono le nostre e non possiamo trattarle come se fossero casa nostra. Eppure il nostro lavoro si fonda sul sentimento, inteso come sentire, per poi agire di conseguenza in direzione del benessere e avvantaggio dei ragazzi. Dunque tu, Stato, non puoi assegnarmi responsabilità che non afferiscano al mio profilo professionale di dirigente scolastico, perché ti informo che nessuno di noi è un medico e la scuola, meno che mai un nosocomio o un carcere sanitario dove i genitori devono temere per i propri figli e per la propria potestà genitoriale. La scuola che io dirigo la sento mia, perché la curo come se fosse mia, apportando tutte le modifiche e tutti gli accorgimenti che possano innalzare i livelli di attrattività, come scritto tra gli obiettivi di svariati programmi operativi nazionali, finanziati a livello ministeriale e anche europeo. Ma sembra che tu, Stato, non sappia di cosa io stia parlando. Dove sono i sindacati, quegli stessi che qualche anno fa inviavano vertenze a quei presidi che articolavano un orario ritenuto ingiusto da qualche docente puntiglioso? Anche essi ignorano quali siano i diritti e i doveri e la specificità delle mansioni di un docente, di un dirigente scolastico e del personale ATA? Dove sono descritte le mansioni di tipo sanitario, che oggi un ministero, quantomeno confuso e approssimativo, vuole imporre in modo illogico, illecito e antidemocratico ad una classe di lavoratori, quella scolastica, che si vede catapultata in ambito medico-sanitario, con tutto il carico pesantissimo di implicazioni e responsabilità? E quando la bomba scoppierà, la bomba metaforica, perché scoppierà, dove si rifugieranno tutti questi ministri, esperti, tecnici, portaborse di qui sopra? Pensano forse di dissolversi, di potersi nascondere? No. Io ho vinto un concorso come dirigente scolastico e nel Decreto 165 del 2001, articolo 25, sulla dirigenza scolastica, non c'è traccia di mansioni che afferiscano a profili medico-legali, tantomeno quello di direttore sanitario. Vale a dire, mi spiego, perché mi rendo conto dell'ignoranza abissale, oltre che probabilmente della malafede che ha dato seguito a simili linee guida, piani e decreti. Io non avrei l'autorità di nominare nessun referente Covid, per esempio, e tantomeno consentire a personale scolastico di azzardare valutazioni di tipo diagnostico, come rilevare, e apro virgolette, in uno studente sintomi suggestivi di una diagnosi da SARS-CoV-2. E se non posso farlo io, non può farlo nessun altro dirigente scolastico, neanche quello che non parla e a testa bassa, anche tronfio, alimenta il suo smisurato ego, attraverso un'obbedienza supina e incosciente, in termini di danni irrimediabili da tutti i punti di vista. Quanto descritto nel protocollo sanitario allegato al piano scuola 2020-21, non è compatibile con i profili professionali a cui si riferisce, oltre che assolutamente fuori contesto e fuori luogo. Denuncio preventivamente i rischi connessi alle prescrizioni dettate da questo protocollo sanitario e dalle ulteriori misure di controllo territoriale ad esso collegate. Pericoli reali di allarme sociale, ordine pubblico all'interno degli istituti scolastici, disordini che potrebbero verificarsi molto facilmente in seguito all'applicazione delle misure in elenco. Per chi non lo sapesse, il protocollo prevederebbe che un operatore scolastico qualsiasi, dal collaboratore al docente al dirigente scolastico, alla presenza di colpi di tosse o sintomatologia simili-influenzale. E io aggiungo, cioè, abbia autorità. Chi gliel'ha concessa? Il ministro? Lucia Zolina, il comitato tecnico-scientifico, vale a dire i medici e tecnici Agostino Miozzo, Silvio Brusaferro, Francesco Maraglino, Giuseppe Ruocco, Franco Locatelli, Mauro Dionisio, Tiziana Coccoluto, Walter Ricciardi, Claudio Damario, Giuseppe Ippolito, Alberto Zoli? A chi di essi dovrà rivolgersi un dirigente scolastico quando al colpo di tosse, allo starnuto, ad un normalissimo quanto diffusissimo rialzo febbrile, di fronte ad un raffreddore, in particolare nei bimbi più piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia? Ma parliamo di situazioni che si verificherebbero, certamente, in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Si innescherà un meccanismo infernale, fondato sull'approssimazione di valutazioni delicatissime e sulla paura che porterà disordini e anche potenziali ferimenti, fughe da scuola da parte di alunni, anche minori e bambini, studenti, personale docente e non docente, i quali, presi dal panico, potrebbero avere reazioni in consulte? Quando si architettano piani di controllo che si fondano sull'utilizzo della paura, quindi sfruttano le reazioni ancestrali, automatiche, previste dalla parte arcaica del nostro cervello, quindi legate all'istinto di sopravvivenza, bisognerebbe sapere o quantomeno pensare che un essere vivente, animale o umano, quando percepisce pericolo per la propria vita, può reagire in modo assolutamente imprevedibile e inconsulto, perché ha un solo obiettivo, sopravvivere, non ha l'opportunità di pensare che una sua reazione potrebbe essere pericolosa e arrecare danno a sé e ad altri. Sappiamo tutti come gli organi governativi e gli organi di stampa ad essi connessi stanno bombardando da mesi e mesi tutta la popolazione con la strategia del terrore. Pertanto la massa a critica è di fatto terrorizzata, a morte e di questa massa fanno parte anche bambini e ragazzi, gli stessi poiché spaventati frequenteranno le nostre scuole, dove si ritroveranno i lager travestiti da istituti scolastici proforma, nei quali troveranno conferma e rafforzamento dei loro peggiori incubi, già montati ad arte da notizie terrificanti, che sono tenute in vita da scribacchini a soldati che non hanno nessuna intenzione di ricercare la verità, bensì di sostenere alta l'attenzione sul terrore. Denuncio altresì l'indifferenza assoluta di questo Governo rispetto proprio alla violenza psicologica dei suddetti bombardamenti e pregherei, se ancora esiste, l'ordine dei giornalisti a ritirarsi in un consesso di riflessione generale e profonda, durante il quale ripensare alle proprie modalità operative nei confronti dei lettori, dei fruitori televisivi, tra cui minori, che ad ogni ora del giorno subiscono messaggi di una violenza inaudita. E visto che siamo in argomento, pregherei anche l'ordine dei medici, che si preoccupa delle dichiarazioni logiche e pertinenti di professionisti al servizio della popolazione, convocandoli al fine di pretendere da essi spiegazioni immediate circa valutazioni non allineate al pensiero unico governativo, quantomeno di fare lo stesso nei confronti di altri, virgolette, medici, che si permettono di veicolare minacce e offese via social del seguente tenore, rappresentato addirittura dal titolo di un libro, la congiura dei somari perché la scienza non può essere democratica. È arrivato un altro dio tra i tanti che già credono di esserlo, fermo restando il mio amore e rispetto per tutti gli animali e gli asini in particolare, creature belle e intelligenti, diametralmente all'opposto dell'autore del volume e in oggetto. È chiaro che i soldi fanno comodo a tutti, ma i limiti devono esistere e sussistere. In nessun modo noi cittadini, genitori, lavoratori vogliamo subire ancora un simile scempio. Chiedo con forza che venga ripristinata la verità perché anche la massa critica possa finalmente rientrare nella propria vita e nella dolce normale vita ordinaria, perché lo sappiamo tutti, noi non dormienti, lo sapete tutti voi al governo, lo sai tu, Stato, che l'emergenza non è più tra noi e che a muoverti non è l'amore per i cittadini e gli studenti, perché se così fosse non avresti mai agito come hai agito e ti saresti veramente impegnato e premurato di rasserenare gli animi, di profondere ottimismo, tranquillità, ti saresti anche preoccupato di altre malattie e se proprio vuoi insistere sui giovani, ti informo, Stato, che ci sono milioni di giovani che soffrono di anoressia, di depressione, di abuso di sostanze stupefacenti, di alcolismo, di pratiche autolesionistiche. Abbiamo giovani che si suicidano sempre prima, a Salerno due casi subito dopo il lockdown. Denuncio che se una scuola degenere e degenere dovesse davvero partire, in breve potrebbero esserci, di fatto ci saranno, rischi molto seri da tutti i punti di vista dei quali io chiederò conto alle persone che ne sono e ne saranno responsabili, che non potranno nascondersi dietro nessuna sigla tipo CTS. I nomi sono noti e saranno fatti. Aggiungo che non potrò essere intimidita da nessun avvio di procedimento disciplinare, perché la difesa della vita dei nostri ragazzi è propedeutica al futuro di tutti. Pertanto vado avanti insieme alle tantissime persone che celebrano ogni giorno l'amore e che vogliono restare lontane da logiche di potere delle quali non vogliamo più essere vittime. A voi, rappresentanti di questo Governo, faccio questo appello. Cogliete questa occasione per ripristinare subito la verità, restituendo spontaneamente i diritti costituzionali e la libertà al popolo italiano che neanche vi ha eletti, eppure in parte vi ubbidisce credendo alla narrazione falsa che gli state raccontando. Chi cerca trova e voi state cercando per trovare ciò che vi serve al proseguo della vostra occupazione in debita del Parlamento. I malati che non si trovano perché non ci sono. Ditelo, riabilitatevi, rientrate nei vostri ruoli, non solo di politici ma nel vostro rango di uomini. Mi permetto di aggiungere un invito al Ministro Signor Di Maio, mio conterraneo, invece di sedere in poltrona dopo un ipocrito quanto inguardabile saluto al gomito con politici cinesi, chissà a seguito di quale compravendita che ci riguarda, che provi a ricordare da dove viene, che cosa dovrebbe fare un Ministro degli Esteri, e cioè agire in favore del suo popolo in onore alla verità e a vantaggio dei cittadini. E smettetela con queste pratiche indegne di esseri umani. L'assenzione dallo stringersi la mano è chiaramente, senza equivoci di sorta, parte di questa sceneggiata. Perché in ogni caso le mani si usano per toccare tutto. Non vedo perché si possa toccare tutto e poi sentirsi colpevoli nel toccare altre mani, visto che poi le mani si lavano, anche se in certi casi, pur lavandole, resteranno sporche. Ma questa è un'altra storia. E concludo, e concludo. Egregio Sergio Mattarella, lei che con il suo stesso cognome rievoca onori e glorie di chi si è immolato sull'altare della giustizia, non è il mio Presidente, finché non rientrerà nella sua funzione di garante della Costituzione. Avvocato Giuseppe Conte, lei non è il mio Presidente del Consiglio e non solo perché non è stato eletto da nessuno, ma soprattutto perché non eletto avrebbe dovuto operare nel modo migliore per il popolo italiano e poi gentilmente congedarsi. E invece non solo non opera a favore degli italiani, ma addirittura proroga uno stato di emergenza senza motivo. Ricordo a tutti, unico Stato in Europa ancora in emergenza. Fittizia, con conseguenze inquantificabili da tutti i punti di vista. Chiedo alle opposizioni di pretendere il dibattito parlamentare e il ripristino immediato della legalità, quella vera, se no, per quanto ne diciate, sarete complici di un governo illegittimo e di stampo dittatoriale, sebbene ancora per poco in embrione. Difido la classe politica tutta, in particolare i governatori di Regione, ad agire nei nostri confronti come se fossimo incapaci di intendere e di volere, sia perché non è questo il loro compito, sia perché non saranno ulteriormente tollerate e uscite da circo equestre a fini propagandistici. Anche a loro ricordo che hanno delle materie a cui sovraintendere. Con dei limiti e con modalità dialettiche avete consegnato il Paese, l'Italia, in mano alla peggiore ignoranza, all'ipocondria e alla menzogna. Vi ricordo che le nostre radici affondano invece nella cultura classica greco-romana, che poggia le sue fondamenta addirittura sul divino. Lasciate il passo. Invito tutti a trattare questa crisi come una grande occasione, la grande bellezza per rinascere, per riappropriarci della nostra identità, per tornare alla gioia del sapere, del fare, per tornare agli antichi splendori. Emozionante, commovente, disarmante. Bene, certo che dopo un discorso come questo è interessante, collega avvocato. È come quando l'avversario parla, dice le cose come stanno e tu non sai più da che parte arrampicare. Io voglio ringraziare Carlo Saverio Carlotta perché ha fatto una disamina altamente pedagogica, scientifica, che trae le origini dalla nostra storia, dalla nostra storia romana, greca, occidentale, latina. Io mi rivedo, sento l'odore della classe, della scuola, dei libri. della colla. E penso a dove ci stanno portando questi signori. Mi sono preso qualche appunto, ma mi piace andare a braccio e vado. Come va va. Tutto quello che è stato detto stamattina riflette un'analisi reale ed è la verità. È talmente vera che nessuno la accetta. È diventata inaccettabile. Siamo considerati, non dico quei termini, per rispetto a suo papà, a mio nonno, che sono stati a Mauthausen. Quindi questi esseri ignobili non devono permettersi di usare certi termini perché noi abbiamo tra i nostri familiari persone che ci hanno lasciato la pelle e non si può usare questo termine. Ne userò un altro e poi faremo, entrerò in un campo fantastico, quello del complottismo. Ma lo farò alla fine. Allora, quello che io devo dire oggi, qual è il nostro compito come Comitato per le Libertà Costituzionali, come Avvocato, come gruppi di Avvocati, che stiamo preparando un ricorso al Tar. Siamo supportati da questa, non definisco task force perché voglio usare l'italiano. Abbiamo delle eccellenze che ci supportano in qualsiasi campo. Alla mia sinistra abbiamo un pedagogo, sociologi, medici, scienziati che sono in grado di mettere a nudo come stanno veramente le cose e quindi ci renderanno il compito relativamente facile per promuovere questo ricorso al Tar. Ci sono delle violazioni di legge palesi, ci sono degli accessi di potere, degli abusi, degli sviamenti, delle genericità. Quindi speriamo di avere dei giudici che mettano la coscienza che li contraddistingue, almeno quelli sani, quelli onesti, perché non tutti sono onesti, lo sappiamo, ma in ogni categoria ci sono gli onesti e i disonesti, persino anche tra i cattolici. Quindi attaccheremo non solo i regolamenti, non solo i disciplinari dell'ingresso a scuola, ma attaccheremo anche la legge Azzolina perché siamo ancora nei termini e quindi presenteremo anche la questione di legittimità costituzionale, ma non ci limiteremo a quello e chiederemo anche di trasmettere al CEDU alla Corte di Giustizia europea per i diritti umani, perché ci sono delle violazioni anche di norme europee. Quindi la legge Azzolina dal nostro punto di vista è una sorta di cliché come la legge Lorenzin, che sono leggi propedeutiche a dei progetti che non fanno parte della nostra cultura, né giuridica, né di istruzione, né tantomeno di sanità. E questo è quello che, secondo me, dovrebbe far riflettere noi e dovrebbe far riflettere chi ci ascolta, dovrebbe far riflettere il popolo italiano, perché lo diciamo tutti addetti ai lavori, l'emergenza è di fatto finita e stanno continuando a procrastinarla. Dovrete votare, è ridicolo perché lo sappiamo, no? L'hanno già votata? Perfetto, siamo tutti contenti allora. Quindi dico, ad un certo punto ci troviamo di fronte a un distinguo tra Covid e coronavirus, fase 2, cioè il 2. Perché il virus è un agente patogeno che ha creato dei problemi, malattie, morti, eccetera, eccetera. Covid invece, visto che l'emergenza sanitaria è finita, Covid lo vedo più come un progetto. E allora mi scopo, mi chiedo e lo chiedo a tutti, qual è lo scopo di questo progetto? E con quali mezzi viene attuato? Non so lo scopo, vedo dei mezzi che non sono molto chiari. E quindi mi faccio delle domande. E mi chiedo il perché. E ci sono una serie di perché che io vorrei rappresentare a chi ci ascolta, a chi ci ascolta attentamente. Sono dei perché che molti di noi si sono già posti numerose volte. E da ultimo, perché il governo ha secretato le relazioni, i documenti del CTS e le altre relazioni degli organi del Ministero? O le relazioni dei Ministeri? Perché le ha secretate? E poi ne hanno desecretati qualcuno. 5 su 50, se il dato è corretto. E mi chiedo, perché soltanto 5 sono stati desecretati e gli altri 45 non abbiamo diritto di sapere cosa c'è scritto? Che cosa è successo? E poi un altro mi chiedo anche, perché il governo ha negato l'esistenza dell'emergenza nel mese di febbraio 2020, quando aveva già dei documenti di gravissima entità sul tavolo. A febbraio, il 23 febbraio, è stato emesso un decreto legge dopo 23 giorni da quando il Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2020, aveva dichiarato l'emergenza sanitaria. Non entro nel discorso dell'emergenza sanitaria perché lo sappiamo tutti, lo hanno già detto in varie salse, non è uno stato di guerra, non è prevista dalla Costituzione, è stata mutuata dal decreto legislativo, cosiddetto codice della protezione civile. Grazie, abbiamo un preside che ci dà una mano. Quindi mi chiedo, perché l'esponente più in vista, ascoltato e promosso dai media, il dottor Burioni a quell'epoca predicava ottimismo e dichiarava che il virus non esiste e non è pericoloso, non circola. E poi mi chiedo, nonostante ciò il CTS perché abbia indicato misure di sicurezza circostanziate e territorialmente limitate a maggior rischio. Questo lo si rileva dai documenti che sono stati desecretati. E mi chiedo perché il Governo ha deciso di chiudere tutti in casa, nonostante ci fossero. Allora mi chiedo anche, ma se il CTS, se il Comitato Tecnico Scientifico profumatamente pagato una, oserei, una corazzata di 450 persone, altamente qualificati, e poi andiamo a vedere in ogni CTS in realtà le qualifiche a volte manco ci sono. Il CTS che ha nominato la dottoressa Utter è composto di 18 elementi con dei curriculum eccezionali. Non ce n'è uno, credo, che abbia competenza specifica nella scuola su 18. Come direbbe la mia cara amica Solange, ma di cosa stiamo parlando? Ma no, ma io dico, ma se il CTS ha dato delle indicazioni, delle linee guida al Governo da adottare e poi il Governo non le adotta. Allora dico, ma mi chiedo, ma perché esiste il CTS? A cosa serve? Anche perché lo paghiamo noi, se non sbaglio, no? Quindi queste sono le domande. E poi non dimentichiamo che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità che si è guadagnata all'Oscar della dubbia credibilità. Concedetemi almeno questo. Non ha mantenuto una linea coerente da gennaio del 2020 sino ad oggi su qualsiasi soggetto abbia trattato. Ha sempre cambiato punti di vista, ha sempre cambiato prescrizioni, ha sempre cambiato conclusioni. E quindi questo per noi cosa significa? Significa in generale confusione. Lo in genera a noi addetti ai diritti, ai detti ai lavori nel campo del diritto, possiamo immaginarci le persone normali, il popolo, che tipo di ragione possono farsi di tutto quello che è successo. Confusione. La confusione insieme alla paura sono i due elementi fondamentali che vengono usati e sono stati usati nella storia per la manipolazione mentale. Questo è quanto, che ci piaccia o no, lo vediamo. Noi siamo tutti ragazzini che passano i 50 anni e in 50 anni abbiamo sempre visto alla televisione i bianchi contro i rossi, i verdi contro i gialli. Tribuna politica, tribuna elettorale, uno la diceva in un modo, l'altro nell'altro. Poi Seconda Repubblica è un'opposizione sempre con scopi distruttivi e mai costruttivi, quindi giù un governo sull'altro, rifai tutte le leggi da capo e poi rifalle e questo è il gioco della politica, però quantomeno c'erano due poli, c'erano due punti di vista, c'erano punti di vista diversi. Adesso no, è dato tutto per scontato. Io sto facendo una fatica allucinante, però mi faccio qualche ora di televisione al giorno per sentire quello che dicono e veramente è allucinante e nessuno dice niente, anzi la maggior parte delle persone apparentemente tiene la mascherina, sta dietro la mascherina. Apparentemente segue le regole. A una conferenza che abbiamo fatto recentemente, conferenza, c'erano due o trecento persone, ho chiesto ma perché portate la mascherina? Perché avete paura del virus? Perché dovete rispettare la legge? E se poteste la togliereste o no? E la risposta è stata evidente, evidente. Su cento persone, ogni cento persone, almeno ottanta dicevano, la metto perché la devo portare, perché me lo impongono, ma se potessi non la metterei. Quindi non è la paura del virus. Quindi questo lo sanno anche loro, lo sanno tutti questo e veramente è un'ipocrisia. È un'ipocrisia. Togliamoci questa ipocrisia. bene. Volevo parlare di una cosa, non so se c'è tempo, sono le tredici. Vado. Non sono così sicuro. Allora, concludo con una dissertazione seria e non da piazza, come fanno i media televisivi e della carta stampata. Che cosa significa complotto? da cui ha preso spunto l'azione discriminatoria della propaganda per definire tutti coloro che non la vedono chiara, che hanno dubbi o che chiedono senza ottenere risposta come vengono catalogati come complottisti. Il dizionario Treccani ne dà una definizione richiamandosi al giornalismo. Qui arriviamo agli anni 90, Giorgio Bocca, per chi se lo ricorda, grandissimo giornalista, anche se io preferivo leggere Montanelli, però queste erano le penne di quell'epoca. Poi al 2005 con altri articoli della Repubblica. In pratica, quindi abbiamo una definizione spresativa per indicare chi vede dietro le cose anche più ovvie una cospirazione, un motivo nascosto o cose di questo tipo. La definizione letterale, oserei dire grammaticale invece, di complottista, sarebbe la derivazione della parola complotto con la desinenza. e il complotto come definizione è un'intesa segreta tra poche persone volta a rovesciare un potere. Quindi, se io non sono allucinato e se tante persone come me non sono allucinate, credo che stiamo osservando un complotto, perché ci sono poche persone che segretamente hanno delle intenzioni per, non so se si può dire rovesciare un potere, ma che comunque vogliono cambiare il sistema. Il nostro sistema democratico basato sulla Costituzione, qualcuno sta cercando di modificarlo a modello cinese. La scuola è il primo ettaro di terreno dove si sta lavorando in questi termini, depersonalizzazione totale. E allora a questo punto dico, ma ci ricordiamo chi sono i cinesi? Vogliamo ricordarci cosa hanno fatto in Tibet? Io ho avuto la fortuna il grande onore di conoscere la sorella del Dalai Lama e di conoscere alcuni sacerdoti che sono stati imprigionati, torturati per anni, depersonalizzati. C'è gente con una filosofia, con una cultura, con un esempio di esistenza che credo che dovremmo quantomeno tenere in seria considerazione. Quindi a questo punto, intesa segreta, osserviamo e rinnoviamo la domanda perché il governo ha secretato? Cosa c'è da tenere segreto? Tra poche persone e io qui mi rifaccio, cioè qualcuno mi deve dire se è vero o se è falso che Lillie Gruber, Matteo Renzi, Monti e questa gente fanno parte del Bilderberg, Emma Bonino e questi signori mi devono spiegare che cosa ci fanno nel Bilderberg e queste persone mi devono spiegare che cos'è questo cavolo di Bilderberg, visto che se dico Bilderberg sono un complottista o non so leggere oppure qualcuno scrive la favola del Bilderberg e il Bilderberg non esiste. Allora qualcuno mi deve spiegare che cosa sono gli stati generali, che cosa sono le riunioni di Villa Panfili, mi viene una brutta parola, mi trattengo. Ma che cavolo di roba è questa? Cosa c'entra con la nostra Costituzione? Cosa c'entra con il nostro ordinamento? Cosa c'entra con il nostro passato, presente e futuro di un ordinamento democratico? Qualcuno me lo deve spiegare? Quindi volta a rovesciare un potere. Basta osservare, qui ci sono membri della Camera e del Senato, dove è finito il vostro potere. È stato sospeso, l'arma che usano, quella che funziona meglio è la derisione. Cioè uno dice una cosa seria, qui c'è una persona che davanti a 629 persone ha detto quello che pensava, gli hanno dato della spostata, della disturbata. Ok? E io questo non lo accetto. Questo non lo accetto. E come me mi auguro che ci siano milioni di italiani che non lo accettano. Non hanno il coraggio di dirlo, va bene, tirate fuori gli attributi. Perché lo sapete e dovete avere il coraggio di dirlo. Perché altrimenti il futuro sarà di qualcun altro, delle macchine. Sarà un futuro di macchine. Un bel allevamento di maiali con un'elite, che poi mi fanno ridere questi qui, che pensano di fare parte dell'elite. Ma non sanno che sono degli strumenti, dei vili, ignobili, poveri strumenti. Anche perché non hanno un IQ sufficiente. Hanno messo gente in posti strategici senza qualifiche di qualsiasi genere. Non c'entrano proprio niente. Cioè noi abbiamo visto Moro, Rumor, Sara, Gatleone, Enrico Berlinguer, Giorgio Almirante. Ma chi cacchio sono questi? Ma fatemi il piacere. Io avrei finito. Bene, ringrazio tutti.